Un'attività complessa nella quale la componente psicologica ha la stessa importanza di quella assistenziale. Una figura professionale sempre più richiesta anche alla luce dell'invecchiamento della popolazione. La Misericordia di Arezzo organizza una scuola per badanti. Vogliamo aprire un corso di scuola per badanti affinché le persone che assistono le persone avanti con l'età possano farlo con professionalità e con umanità. Se si parla di persone anziane bisogna che le persone che le circondano abbiano delle competenze e che siano in grado di mantenere il più possibile la persona a casa nella sua quotidianità ma garantendo il benessere e l'autonomia. Il collegamento, il legame che esiste tra corso e possibilità anche in fondo di trovare un impiego per queste persone. Sì, l'aspetto è estremamente interessante perché la parte fondamentale era quella di fornire personale che fosse qualificato. Quello che mi interessa anche segnalare è che noi seguiremo queste persone nel senso che sentiremo le famiglie, sentiremo le persone, vedremo quindi anche il loro percorso se è un percorso adeguato in modo da poterle eventualmente monitorizzare e quindi poterle seguire e anche consigliare nel momento che ce ne fosse bisogno.